Benvenuti nella corte di Leuca, Your Holiday Center. Ci troviamo a Santa Maria di Leuca, del Finibus Terre. Corte di Leuca, moderno e raffinato centro vacanze di nuova costruzione. E' situato in pieno centro, a soli 200 metri dal lungomare di Santa Maria di Leuca. La struttura si compone di eleganti e moderni appartamenti ubicati al primo e al secondo piano. Di un'ampia zona servizi, con reception, connessione wifi gratuita, locali commerciali e posto auto custodito. Tutti gli appartamenti e i parcheggi sono serviti da ascensore. La struttura, in posizione strategica, si trova a metà tra i due mari e rende raggiungibili le due coste, quella adriatica e quella ionica. All'interno della struttura si trova un moderno ed accogliente bar e una pizzeria dove potete degustare delle squisite pizze. Vi aspettiamo! Ciao!